Poteva essere l'ennesima sciagura sul lavoro, invece fortunatamente un operaio 53enne di Riccione, dipendente di una ditta che esegue lavori stradali sulla condotta idrica nel comune di Colli al Metauro, se l'è cavata con diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. Questa mattina, poco dopo le 8, lungo la strada comunale Belvedere che porta da Calcinelli a Saltara, l'operaio stava manovrando con un bobcat ed a causa di una pendenza sul terreno si è ribaltato con il mezzo. La piccola pala meccanica si è improvvisamente impennata e l'uomo ne ha perso il controllo. Il mezzo si è ribaltato sul ciglio della carreggiata e si è poi capovolto su di un fianco abbattendo la recinzione di una casa. L'operaio, trascinato dal mezzo ma sempre rimasto cosciente, è stato subito soccorso dai suoi colleghi che hanno avvertito il 118. I sanitari giunti sul posto, una volta stabilizzato il 50 trenne, lo hanno trasportato al San Salvatore di Pesera dove i medici del pronto soccorso gli hanno riscontrato diverse lesioni. Oltre al 118 sul posto i carabinieri di Saltara e la polizia municipale ed i vici del fuoco di Fano.